Salve a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi iniziamo la realizzazione di un nuovo progetto ovvero di un alimentatore da laboratorio versione Mark I. Che cos'è un alimentatore da laboratorio? E' un alimentatore che consente di controllare la sua tensione di uscita e la sua corrente di uscita. Quindi è davvero uno strumento molto utile appunto in un laboratorio perché consente di variare questi parametri a seconda della scheda elettronica, del circuito elettronico o del dispositivo generico che abbiamo bisogno di testare in quel momento. Di alimentatori da laboratorio ne esistono un'infinità e variano a secondo della tensione massima che si vuole raggiungere in uscita, della corrente massima che si vuole avere in uscita, della potenza massima che può trasferire questo alimentatore e anche della tecnologia con cui vengono costruiti. Infatti proprio tenendo in considerazione quest'ultimo parametro ovvero la tecnologia ho deciso di chiamare questo alimentatore da laboratorio con la versione Mark I. Mark I in quanto sarà la versione base quindi utilizzerò una tecnologia abbastanza antiquata per realizzarlo. Questo perché attualmente essendo nei primi momenti di questa avventura non ho la tecnologia e la conoscenza per poter realizzarne uno di tipo superiore. Lo schema logico dell'alimentatore che voglio realizzare è il seguente ovvero questo alimentatore ovviamente si connetterà alla nostra presa di corrente domestica, subito ci sarà uno stadio con un trasformatore di isolamento che arriverà allo stadio di power stage, ovvero composto da rettifica più tutta la circuiteria che governa la potenza che poi arriva al dispositivo. per tenere sotto controllo e gestire la tensione e la corrente che ci deve essere in uscita ci saranno poi due blocchettini logici ovvero il loop di controllo della tensione e il loop di controllo della corrente che interagendo con lo stadio di potenza andranno a far sì che questa tensione e questa corrente in uscita siano sempre tenute sotto controllo e al valore desiderato dall'utente che sta utilizzando l'alimentatore. Il motivo per cui quindi questa tecnologia ho voluto chiamarla Mark 1 è perché è presente ancora un vecchio trasformatore di isolamento e perché nello stadio di potenza per gestire la corrente e la tensione in uscita ci sarà un transistor messo in modalità di LDO quindi di abbassatore e questo qui sono i primi alimentatori che sono usciti ed è proprio per questo motivo che sono piuttosto antiquati. Per i motivi appena elencati quindi abbiamo che la tensione di uscita potrà essere al massimo uguale alla tensione di uscita del trasformatore e che soprattutto la potenza che si può trasferire con questo alimentatore è molto bassa dovuto appunto al fatto che lavorando come LDO il transistor sdissipa parecchio e quindi oltre i 20-30 watt questo tipo di alimentatore in genere non vengono mai utilizzati. Quindi dopo questa breve panoramica le caratteristiche principali dell'alimentatore che andrò a realizzare sono che la tensione di uscita potrà variare fra un minimo e massimo di 0,30 volt, la corrente fra un minimo e massimo di 0,1 ampere e quindi di conseguenza la potenza massima che può trasferire questo alimentatore è pari a 30 watt. Quindi quali saranno le fasi del progetto? Abbiamo che nei prossimi video andrò a far vedere lo schematico che ho deciso di realizzare, andremo a costruire la PCB del circuito, andremo a progettare il dissipatore, infatti come appena detto questo circuito dissiperà parecchio quindi ci sarà un video dedicato a come si dimensionano questi oggetti, ci sarà un inevitabile debug del circuito finale e infine andremo a mettere il tutto dentro un case perché appunto dovrà essere maneggiato quindi cerchiamo di metterlo in qualcosa di carino almeno questa volta. Va bene, quindi come video iniziale del progetto è apposto così e ci vediamo nei prossimi video per la realizzazione. Alla prossima!